Se il sindaco vuole passare da Messina ci deve dire dove vuole andare e ci deve dire dove andrà a fare l'autocarantina. Noi con quel dato informiamo il sindaco del comune dove questo signore ci ha comunicato che deve andare e se il sindaco ci dà l'ok noi gli diciamo ok, puoi passare. Se il sindaco ci dice non fate rovare perché chi stucca è un balordo che non vogliono neanche far entrare a casa sua noi diciamo a questo balordo caro mio non hai alcun motivo per venire qui perché ci ha dichiarato che farai l'autocarantina in tale domicilio in tale domicilio non ti vogliono e quindi rimane dov'è e se arriva qua non rispedisca il calcio in culo indietro per essere molto pratici.